E' il sindaco di Campania Roberto Monaco il candidato del centrodestra alle prossime elezioni provinciali in programma il 31 ottobre. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno chiuso l'accordo sul 53enne, eletto a giugno per un secondo mandato alla guida del comune di Campania, che ora andrà a sfidare il candidato del centro-sinistra Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio. Siamo certi, e quanto si legge in una nota congiunta dei partiti del centrodestra, che le capacità amministrative e politiche del sindaco Monaco potranno dare un futuro diverso all'ente provincia, che pur distrutto dalla pessima legge del Rio voluta da Renzi e dal PD, svolge una funzione importante per il territorio.